Non si augura a nessuno di vivere in mezzo alle macerie di uno sbaraccamento specialmente se c'è il rischio del disfacimento di amianto nelle catapecchie vicine. A questo aggiungiamo topi che si insinuano a Rione Taormina da una famiglia residente nell'abitazione che non dovrebbe essere chiamata tale. Ad iniziare questa mattina le fasi di rimozione dei detriti delle baracche abbattute e la ditta specializzata Gestam di Villa Franca Tirrena, incaricata da Palazzo Zanca di eliminare anche l'Eternit crollato da una tettoia e quello della prossima demolizione. I resti non pericolosi dei fabbricati verranno conferiti nell'impianto di riciclaggio di inerti all'arderia, quelli pericolosi a Villa Franca. Lo studio chimico Zaffino sta procedendo alla caratterizzazione dei materiali, solo dopo si deciderà come smaltirli entro la prossima settimana. Non lo tolgono tutto perché ancora ci abito io nella casa con il sopratetto d'amianto. L'assessore Pino mi aveva promesso che mi dava un alloggio, sono qua ancora da aspettare con il bambino piccolo di due anni che stiamo in mezzo a queste macerie. Non le hanno detto entro oggi che sistemazione avrà? No, 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 anche ancora sto qua in casa mia nella casetta. Le è successo un episodio a Pasquetta, ha visto anche sbriciolarsi il serbatoio di amianto accanto a casa sua? Se lo stesso giorno abbiamo visto i bambini giocare sul tetto d'amianto, uscendo abbiamo visto io con mio marito il bambino piccolo questo tetto corrollato con tutto che si sbriciolava. L'assessore Pino non si è fatto vedere? No, no, è venuto tre settimane fa che aveva l'appuntamento insieme con il mio avvocato. Ricordiamo le condizioni di casa sua? Sì, praticamente io dal 24 di novembre quando c'è stata tutta quella alluvione si è rotto tutto il tetto d'amianto, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, hanno fatto il sopralluogo e ho due spratti inagibile. Ho fatto pure la domandina al comune, gli ho mandato l'istanza per avere un alloggio popolare e ancora non ho notizie, è qua con il bimbo piccolo di due anni.